L'asola di Salerno comunica che nella provincia di Salerno è stata superata a quota un milione di vaccini. Nel dettaglio sono state somministrate un milione e cinque mila dosi complessive, di cui 644 mila prime dosi, 361 mila seconde dosi. Un grande traguardo raggiunto dall'asola di Salerno che si attesta nelle prime posizioni in regione Campania, frutto dell'impegno della direzione generale e di mesi di duro lavoro e sforzi sinergici delle varie componenti messe in campo. Un impegno che continuerà senza soluzione di continuità nei mesi a venire fino al raggiungimento del traguardo massimo, l'immunità di gregge, a tutela dell'intera comunità e per un ritorno alla vita normale. L'asola di Salerno invita chi non sia ancora vaccinato a farlo al più presto per il bene proprio dei propri familiari e della comunità, rivolgendosi ai tanti centri vaccinali presenti sull'intero territorio salernitano.